Mentre la scuola si sciopera contro la sentenza del Consiglio di Stato che penalizza diplomati magistrali, la CGL di Ravenna indice un'assemblea il prossimo 11 gennaio per fare il punto sulla spinosa questione che tiene col fiato sospeso oltre 50 persone in provincia. Ad oggi quello che sappiamo è che fortunatamente, mi viene da dire, nessuno verrà licenziato, quindi tutti i docenti interessati dalla sentenza plenaria che di fatto vieta l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento rimarranno ognuno al proprio posto. A Ravenna sono entrati in ruolo 55 unità di diplomati magistrale, una ventina quest'anno scolastico e il resto lo scorso anno scolastico, quindi c'è già chi ha superato l'anno di prova e l'anno di formazione, c'è chi è in procinto di svolgerlo e queste persone comunque ad oggi rimarranno sul loro posto di lavoro, quindi garantendo anche giustamente una continuità didattica ai propri discenti. Però l'avvocatura di Stato si deve pronunciare? L'avvocatura di Stato si deve pronunciare, quindi nel frattempo quello che noi chiediamo è che ci sia un reclutamento diverso rispetto agli anni scorsi. Mi viene da dire un concorso riservato per esempio. L'11 gennaio la FLC di Ravenna ha indetto un'assemblea presso il liceo scientifico di Ravenna dove ha convocato tutti i docenti interessati dalla sentenza della plenaria proprio per fare luce su questa situazione e per cercare di fare chiarezza visto che ahimè purtroppo sono state date delle informazioni errate.